Sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pesaro Urbino nell'ambito di controlli in due diversi esercizi commerciali di Pesaro, oltre 53.000 prodotti utilizzati sia nel settore elettrico che in attività di giardinaggio, nonché mascherine filtranti in tessuto, tutti non conformi alla normativa in materia di sicurezza e quindi potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Per evitare che i prodotti non sicuri venissero venduti nei diversi negozi nazionali, facenti capo agli esercizi commerciali in questione, sono stati interessati i reparti territorialmente competenti che hanno rinvenuto complessivamente circa 110.000 articoli di analoga merce non a norma. I prodotti sono stati ritirati dal mercato e posti sotto sequestro dalle fiamme gialle ed i responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio per la definizione delle sanzioni amministrative previste per un importo fino a 25.800 euro. Grazie.